cari spettatori del cinevirus oggi vorrei raccontarvi un genere un po desueto il western e quando si parla di western non si può non pensare a john ford ea ombre rosse l'archetipo del western 1939 the stage coach in effetti ford che si definiva i am a westerner un realizzatore di western di western non ne faceva dal periodo del cinema muto poi dopo ombre rosse ne avrebbe fatti invece tantissimi anche la genesi del film fu piuttosto tortuosa i produttori volevano due nomi importanti altisonanti come per esempio gary cooper e marlene dietrich ma ford insistette e alla fine riuscì ad imporre un attore giovane a lui congeniale john wayne che poi sarebbe diventato il protagonista di tantissimi suoi western e con lui claire travel the stage coach la dirigenza che cos'è è il viaggio il prototipo del viaggio e viaggio vuol dire avventura ostacolo e conoscenza l'ostacolo sono gli indiani gli apache di geronimo la conoscenza avviene nell'involucro della dirigenza fra i passeggeri c'è il banchiere truffaldino burton churchill c'è il rappresentante di liquori donald mic il dottore alcolizzato thomas mitchell il giocatore d'azzardo aristocratico ed elegante john caradine c'è la prostituta dallas e c'è la signora di buone maniere louis plat e poi c'è johnny ringo lui il fuorilegge john wayne che deve saldare il conto con la giustizia ma sappiamo in cuor nostro che lui ha ragione e a guidare la dirigenza c'è lo sceriffo che lo ha arrestato e il postiglione che riconoscerete sempre nei film di john ford perché c'è sempre corpulente con la voce che è un po afona andy divine il viaggio va avanti si incontrano gli indiani arriva il settimo cavalleggeri che salva tutti e in mezzo ci sta anche la nascita propiziatoria di un bambino insomma come diceva john ford motion is emotion il movimento è emozione e nessun film lo dimostra meglio di questi la colonna sonora non posso farvi la colonna sonora di ombre rosse però posso farvi la fanfara la trombetta del settimo cavalleggeri perché ti